buona giornata a tutti voi che siete davanti allo schermo di fanu tv questa è la rassegna stampa con la quale iniziamo la giornata oggi è mercoledì 22 marzo 2023 siamo ormai in primavera quindi la temperatura si è un po addolcita il cielo oggi è piuttosto sereno vedremo poi le previsioni del tempo intanto iniziamo come sempre la nostra il nostro appuntamento con l'almanacco del giorno e vediamo qual è il santo di oggi è una santa si tratta di santa lea santa lea visse a roma nel quarto secolo aderì al cristianesimo grazie a san girolamo che aveva organizzato le prime comunità femminili in questa comunità santa lea divenne lea divenne poi la priora la lei condusse una vita umile dopo essere stata una gran dama e avere provato molti lussi molti agi lo fece senza ostentazione riempiendo la sua vita di opere buone e quindi una santa che poi condusse anche una vita epistolare piuttosto intensa la descrive la descrive san girolamo con molti particolari nelle previsioni del tempo oggi su tutte le marche cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno moderati al mattino da sud ovest al pomeriggio da est nord est il mare quasi calmo le temperature minime si attesteranno sui sette gradi le massime 16 gradi e vediamo che il sole sorge alle 6 0 8 e tramonterà alle 18 e 22 questa è un po la situazione della meteorologia sulle marche ed ora apriamo i giornali a partire oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo qui il titolo di apertura un titolo che abbiamo anche sul resto del carlino finalmente si vede il l'assetto definitivo del progetto dell'area ex agip un'area che dopo la dismissione del distributore di benzina è rimasta così incolta usiamo questo 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 questa questa espressione per molti anni ricordiamo che il distributore di benzina è stato soppresso nel 2016 sono poi cavallati anche diversi progetti sono state delle polemiche per chi voleva i parcheggi per chi voleva invece un'area verde ebbene l'amministrazione comunale ha scelto e ieri il nuovo progetto è stato presentato dall'assessora allevori pubblici barbara brunori e dal sindaco massimo seri con i progettisti uno studio di forlì che ha fatto un buon lavoro un bel lavoro dobbiamo dire la fotografia pubblicata dal corriere adriatico evidenzia come l'area sarà un'area di testimonianza un bel biglietto da visita lo ha paragonato così l'assessora brunori abbiamo un'area di sosta vediamo che è un'area che interagisce con il vicino complesso scolastico eppure il progetto non si limita soltanto al triangolo dell'ex agip ovvero dell'area dell'ex distributore ma coinvolge tutta la viabilità e anche l'assetto possiamo così dell'intero isolato fino a via malagodi vediamo che in via montegrappa dalla parte della scuola saranno eliminati i parcheggi ma saranno aumentati quelli che si trovano in via malagodi il tutto verranno soppressi 77 posti auto ma ne saranno rimessi 90 99 quindi vediamo che il saldo è positivo e poi vediamo che ci saranno piste ciclabili ci saranno marciapiedi ci saranno luoghi di sosta panchine vialetti aiuole e illuminazione è un monumento che evidenzia un po come fanno e la città della concordia o almeno così aspira ad esserlo un nuovo assetto i cui lavori dovrebbero cominciare nel mese di settembre e terminare nel mese di maggio del 2024 ormai siamo veramente in dirittura d'arrivo per la riqualificazione di questa nuova area si riqualifica l'area ex agip ecco il progetto razionalista si è un progetto razionalista che si integra con quello realizzato negli anni 30 dall'architetto de renzi ma che guarda alla contemporaneità vediamo il titolo e le fotografie che appaiono anche sul resto del carlino all'ex agip una piazza giardino razionalista presentato il progetto dell'area davanti alla scuola coridoni che si ispira all'idea di de renzi diciamo dietro la scuola coridoni un'area vivibile per la socialità e qui vediamo altre fotografie di quello che è il rendering del progetto appunto dell'ex area agip e speriamo veramente che tutto proceda senza intoppi che la ditta a cui verranno affidati i lavori sia una ditta seria e non e non somma faccia tutti quei ritardi che abbiamo visto in altri progetti purtroppo che sono andati molto molto a rilento ovviamente perché le ditte spesso qualche volta anzi non sono serie allora continuiamo l'esame del Corriere Adriatico vediamo che a fondo pagina abbiamo una notizia di cronaca di nuovo a giudizio il campione delle truffe ebbene era un cittadino macedone che vendeva le auto su internet e poi intascava i soldi senza consegnare le auto di nuovo a giudizio il campione delle truffe simula la vendita di un'auto a 14 14 processi pendenti e 12 già definiti il campione della truffa così viene definito 14 processi pendenti una dozzina già passate il giudicato ieri in tribunale a pesaro c'è stato si è svolto un nuovo capitolo per un quarantenne quarantenne non è macedone era bosniaco scusate quello che ho detto prima domiciliato a mondolfo accusato di truffa aggravata nei confronti di un pesarese in pratica che cosa è accaduto è accaduto che con artifici e raggiri avrebbe proposto la vendita di un opel ottenuto una caparra aveva ottenuto 2500 euro in contanti poi altri 1750 in bonifici l'uomo ha consegnato l'auto poi cosa ha detto accidenti quest'auto non è assicurata ridammela in modo che poi io provveda a stipulare la polizza di assicurazione ebbene il fanese gliel'ha riconsegnata e lui però se ne è involato con l'auto e non l'ha più ridata ecco perché è una anche questa è stata una truffa e vediamo anche che il bastione sangallo verrà concesso in uso anche quest'anno all'associazione work in progress lo ha avuto anche anno scorso come teatro di mille iniziative di tante attività che animeranno la primavera e anche l'estate fanese in questo magnifico aspetto scenografico di un bastione del 1500 e oggi è la giornata di Filippo Montesi ricorre il quarantesimo anniversario della sua morte era il 15 marzo del 2000 e del 1983 quando il Marò fu ferito mortalmente purtroppo infatti morì dopo alcuni giorni morì il 22 marzo successivo a Roma rimpatriato a causa di una imboscata di cui fu oggetto la sua camionetta sulla quale era per un'attività di perlustrazione della strada dell'aeroporto a Beirut in Libano morto a vent'anni per la patria Fano ricorda a Filippo Montesi nel quarantesimo anniversario alza bandiera, messa del Vescovo e testimonianze questo è un po' il riassunto di tutte le iniziative ma detto brevemente oggi alle 10 ci sarà l'alza bandiera al monumento dei caduti in via Nazario Sauro ci saranno anche testimonianze ci sarà anche la banda della marina militare che eseguirà gli inni e poi nel pomeriggio a partire dalle ore 17 al teatro della Fortuna dove l'ingresso è libero però occorre prenotarsi al botteghino ci sarà una manifestazione di ricordo ci saranno diverse testimonianze compresa quella del generale Angioni in video le sue condizioni di salute non permettono che l'anziano militare venga a Fano però non mancherà di ricordare il suo Marò è stato l'unico è il primo militare deceduto italiano in quella grande e importante missione di pace e in questo caso verranno anche riconsegnate le medaglie che erano state rubate pensate che a Tovigliacco nel cimitero di San Costanzo nella tomba di Filippo Mantesi verranno appunto ridate alla famiglia una copia di quelle medaglie per ripristinare quanto dovuto una bella cerimonia Fano non ha mai dimenticato Filippo Mantesi ha intestato a lui una via, ha intestato una scuola ogni anno specialmente l'Associazione Marinai d'Italia ne ricorda il sacrificio ma oggi è una giornata particolare che verrà ricordata con particolare evidenza ed ora vediamo anche altre memorie oggi verrà ricordato anche Italo Nannini nel terzo anniversario della sua morte il fondatore dell'Africa chiama fondi per emergenzi nel nome di Nannini come ogni anno quando ricorre appunto l'anniversario l'Associazione organizza una raccolta di fondi che quest'anno verrà devoluta all'iniziativa di emergenzi con la nave Life Support per il soccorso nel Mediterraneo così intende appunto evidenziare questa opera di umanità che l'Associazione fa spesso nei confronti dell'Africa ma non solo quindi un ricordo importante per Italo Nannini e poi in questo articolo di Spalla abbiamo l'evidenza di un lutto si è spento, si è spento Gabriele Ciccolini l'orafo di Officina del Gioiello un negozio di via Garibaldi è stato purtroppo colpito da un mare incurabile era un grande artista lo ricordano Barbara Marcolini presidente della Confcommercio Fanese e lo ricorda anche Daniele Gaudenzi che tutti conoscono come il direttore della musica arabita ma anche lui è un orofo dello studio A3 ebbene Gabriele Ciccolini faceva parte dello studio A3 poi invece si è dissociato e ha messo su un negozio per conto suo con il quale ha continuato con il laboratorio ritrostante la sua attività un'attività di artista un'attività particolarmente creativa i suoi funerali si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa di San Paterniano ed ora una notizia di cronaca insomma che non è tanto bello a leggersi purtroppo occorre sempre tenere alta la guardia in merito a queste cose compie atti osceni davanti ai bimbi e scatta la calcia ad un esibizionista il fatto è avvenuto in Val Metauro allarme in vari centri appunto della valle segnalato più volte un giovane che si denuda nei giardini purtroppo lo fa davanti ai bambini da Fossambrone a Sant'Ippolito da Sterpeti nel comune di Monte Felcino a Villanova dei Colli al Mitauro i carabinieri sono allertati alla ricerca serrata di un esibizionista che ha destato scompiglio e preoccupazione si è avvicinato ai bambini e alle bambine mentre stavano giocando nei giardini o sostavano sulle panchine dei parchi ha mostrato le sue parti intime in più occasioni veramente un episodio dequalificante utilizza una vecchia Fiat Panda di colore grigio i carabinieri hanno attivato posti di controllo lo stanno ricercando in base a molte testimonianze di mamme che hanno ascoltato i racconti dei loro bambini dei loro figli più piccoli lo stanno cercando attivamente le forze dell'ordine giriamo ancora la pagina e siamo a Serra Sant'Abbondio dove un'associazione benemerita associa la cultura al territorio Poeti dell'eremo non solo versi i progetti di cittadinanza attiva a Serra Sant'Abbondio aperta la sede dell'associazione nata 32 anni fa si tratta di un sodalizio che mantiene viva la tradizione orale e lavora sulla storia dell'economia e del territorio è bene fare un'escursione fino a Serra Sant'Abbondio magari una domenica di primavera è veramente bello e suggestivo vediamo anche la pagina di Senigallia pubblicata oggi dal Corriere Adriatico abbiamo nelle edizioni della provincia di Pesaro solo qualche cenno di Senigallia poi eventualmente in altre edizioni ci sono ancora più pagine però vediamo che oggi nella edizione pesarese si parla dei risultati economici acquisiti dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola e di Corinaldo un altro anno ok il 2022 si chiude con un utile considerevole pari a 7,6 milioni di euro la vice direttrice Pier Simoni dice c'è soddisfazione la nuova direzione ha lavorato in continuità con il passato e resta poi anche l'impegno del territorio come fanno tutte le banche di credito cooperativo che rimangono sempre ancorate alla realtà locale in questo caso 457 mila euro circa mezzo milioni di euro sono destinati alla beneficenza dell'utile acquisito vediamo anche qualche notizia di Pesaro sul Corriere Adriatico vediamo come si parla nelle prime pagine sempre di lavori pubblici ormai l'argomento è fisso per quanto riguarda l'apertura delle pagine pesaresi e torna all'attualità il cavalcavia dei Cappuccini cavalcavia e sottopasso la primavera dei cantieri lavori doppi e paralleli dal comune è stato dato il via libera al progetto esecutivo per la zona dei Cappuccini Pozzi, l'assessore Pozzi e l'assessore del fare dice parte delle attuali rampe saranno demolite con nuovi punti di accesso ebbene oggi c'è il sorteggio in vista della gara per quanto riguarda il progetto esecutivo un anno di lavori al via a maggio si tratta di un'operazione strategica per la città ha dichiarato Pozzi che rende più sicuro e accessibile un luogo centrale del passaggio urbano un luogo che unisce due quartieri frequentanti ogni giorno da tanti pendolari studenti e lavoratori due quartieri importanti come quello appunto di Pantano e della stazione abbiamo il Trebbio e l'immediata periferia di Pesaro impianti sportivi rinnovati fondi dal piano delle opere altri interventi inseriti per le cittadelle a Torraccia e a Villa San Martino ci sono impianti sportivi anche qui che devono essere riqualificati ed ora parliamo delle zoccolette ovvero il recupero dell'oratorio della misericordia più noto appunto come il complesso delle zoccolette c'è stata un'intesa un'intesa che è stata siglata dal comune e dall'ERAP già nel febbraio del 2019 poi ci sono stati diversi problemi diverse pause insomma c'è stato un immobilismo che ora viene recuperato adesso si sblocca l'iter della riqualificazione definendo anche un cronoprogramma di interventi che pigiano ora sull'acceleratore quando prima si è stati particolarmente fermi entro fine mese dovrà essere pronto il piano di recupero per la fine di luglio si andrà all'approvazione del progetto esecutivo e infine entro la metà di ottobre la gara per l'affidamento dei lavori vedete qui come è ridotto il complesso dell'ex oratorio della misericordia e sotto abbiamo anche il consigliere regionale Nicola Baiocchi insomma che sta cercando di risolvere il problema il protocollo tra comune e ERAP era già stato siglato lo ricordiamo quattro anni fa ma poi è stato posto nel cassetto e poi parliamo di crisi idrica un problema che attanaglia tutta l'Italia tutta la penisola ma direi non solo abbiamo la siccità invernale non solo quella estiva e Marche Multiservizi sta destinando 43 milioni per l'acqua ma la sfida sarà veramente questa estate perché poi in estate la crisi idrica si accentua ci saranno più investimenti nel quinquennio il rischio di siccità resta la grande emergenza e lo ricorda Marche Multiservizi nella giornata in cui si celebra l'importanza dell'acqua oggi l'acqua è in grande attenzione si tratta di un programma come abbiamo detto di 43 milioni di investimenti nel ciclo idrico integrato su un totale di 150 nel quinquennio che va dal 2022 al 2026 la media degli interventi nel settore a partire dal 2018 è stata di oltre 18 milioni all'anno circa il 43% in più rispetto alla media italiana ma nonostante questo purtroppo il panorama dei sottoservizi della nostra provincia ha bisogno ancora di bonifiche ricorrenti tutto l'anno e quindi tubi che si rompono perdite di acqua e via dicendo ed ora vediamo l'esito di un processo che si è svolto favorevolmente per l'imputato assolto l'antiquario accusato di truffa si tratta di Igor Loreti credibilità in gioco chiedo i danni è stato accusato di aver venduto dei quadri falsi non degli autori che aveva attestato il gallerista Loreti era finito a processo per vendita di opere false tra i periti ora che hanno dimostrato invece che non era vero ci sono sgarbi e galassi un antiquario che è finito a processo ma il giudice lo ha assolto Igor Loreti galleria in corso 11 settembre accusato di truffa aggravata dopo la querela di un suo cliente che non ha ritenuto veri gli oggetti che aveva acquistato tramite anche lui si aveva fatto ricorso a delle perizie ma queste perizie poi sono state confutate appunto da esperti magari di maggiore credibilità e infatti il giudice lo ha assolto Igor Loreti ora però vuole ricorrere i danni perché ovviamente il danno d'immagine che ha subito è stato rilevante vediamo anche la pagina di Urbino dove vediamo che il consiglio provinciale si è riunito anche nella città ducale Urbino è a titolo diciamo così ufficiale e provincia come lo ha il Pesaro e quindi è giusto che il consiglio provinciale si riunisca anche a Palazzo a Collegio Raffaello dove appunto si svolta questa riunione presieduta dal presidente Giuseppe Paolini provincia consiglio riunito Urbino ha approvato le linee programmatiche storica seduta Gambini il sindaco ha detto merito del presidente ma era doveroso nel 2024 probabilmente ci saranno le elezioni dirette sia del presidente della provincia che del consiglio provinciale ma Paolini è stato rieletto poco poco tempo fa ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino abbiamo visto l'apertura dedicata all'ex Agipe una piazza giardino razionalista e vedremo appunto la sua realizzazione ma il giornale ci informa che anche Viale Battisti sarà presto riqualificato marciapiedi su entrambi i lati pista ciclabile sul lato sud parcheggi e pedoni sul lato nord approvato dalla Giunta nella seduta nel 14 marzo scorso il progetto esecutivo di Viale Cesare Battisti al via il bando di gara saranno creati appunto marciapiedi su ambo i lati della strada ora sono molto dissestati in modo che i pedoni non dovranno più passare a causa della sosta selvaggia delle auto in mezzo alla caleggiata sul lato sud della via quello verso la stazione oltre al marciapiede è stata prevista la ciclabile a doppio senso di marcia mentre sul lato nord quello verso Pesaro a fianco del percorso pedonale ci saranno i parcheggi in parte a spina di pesce e in parte paralleli alla strada il restyling di Viale Battisti si estende fino a piazza Fratelli Rosselli dove c'è appunto la bella Napoli e dove sarà completamente rifatta la pavimentazione in armonia con il centro storico quindi anche qui un progetto rilevante per quanto riguarda la spesa la spesa è un investimento di 900 mila euro circa un milione quindi un progetto veramente importante il capetto il capetto insomma il 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 factotum della banda la baby gang che tiranneggiava gli studenti della Nuti e poi anche quelli che frequentavano il Pincio è stato interrogato dalle forze dell'ordine e ha detto mi dispiace interrogato dal GIP il diciannovenne nordafricano accusato di aver rapinato alcuni minorenni ha ammesso le sue responsabilità si è pentito ha detto che gli dispiace molto e che quindi non lo rifarà più è durato circa 20 minuti davanti al GIP Giovanni Gasparini in un'aula del Tribunale di Pesaro l'interrogatorio di garanzia di questo diciannovenne che all'epoca dei fatti aveva appena compiuto 18 anni comunque il suo dispiacere non lo esenterà dalle sue responsabilità e poi qua abbiamo invece un altro fatto di cronaca si ritrova senza veli sul web e accusa un ingegnere fanese ma il giudice lo assolve si tratta di due colleghi di lavoro avevano avuto una storia in Suriname lo aveva accusato di avere caricato su un sito porno video e foto hot di lei nuda e in pose spinte però non c'è stata la prova di questo atto e quindi il giudice lo ha assolto si tratta appunto di un cinquantenne di Fano e poi abbiamo qui questo episodio come abbiamo detto dequalificante del ventenne che si denuda davanti ai bambini e sorvoliamo su questo argomento che abbiamo già trattato e vediamo anche la pagina di Urbino i consigli provinciali si faranno anche a Urbino d'ora in avanti e il presidente Paolini li alterneremo con Pesaro e sarò qui a ricevere la gente settimanalmente è appunto la reazione del presidente della provincia ed era l'ultima notizia a questo punto chiudiamo la nostra trasmissione dandovi appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti